Bella boys, Sax è tornato con un nuovo video e finalmente è tornato anche un nuovissimo video con gli iscritti che da un po' che mancava quindi ho pochissime cose da dire e spero che vi possa piacere questo video come al solito lasciate un bel pollicione in su avete visto la mia bella maglia di Rainbow Six Siege molto bella e nulla se il video vi piace lasciate un bel commento e un saluto da Sax ciao belli uh sponchilla me lo faccio io fermi, fermi faccio io fermi tutti fermi tutti fermi tutti fermi tutti fermi tutti one tap ricarico carica speciale alla larga nuovo caricatore nuovo caricatore La squadra d'attacco ha eliminato i difensori Ragazzi non vorrei dire a full team eh Uno è entrato in bomba eh Uno è entrato in bomba B Eh ve l'ho detto, l'ho detto Scansione Occhio da dietro Fatti vedere Scusate Silenzio È entrato in bomba Silenzio Il Mastro porno È entrato Scusate 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 Iana morta Uno bagno Back Ma non abbiamo barricato in bomba E' una cosa pessima Eh si Qualcuno che guardi la porta Della bomba A gentilmente Morto back Credo Morta Kali Credo Morto Termite No è quadruple È quadruple Bravo Nico Teni la porta tu Teni la porta in rotation Ancora è entrato Bamba B Teni la porta in rotation Arriva Sì so Uno scale 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 Silenzio Tra l'altro senza accorgermi Ragazzi ha fatto un 360 GG Ah no 160 Planta Sta plantando Sta plantando Abbiamo il defuser dentro eh Capito Grazie Jack Nico curami Riesci a curarmi Un attimo al volo Sono importante io Un attimo Nico Tenevo uno da porta Tutti Nico L'altra porta Silenzio Silenzio La tua posizione è stata compromessa Finestra Nico Esci dalla finestra tu Atterra uno Fatto 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 Easy Ultimo nemico Vinto 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 Easy Oh Che cazzo vuoi Atterrato Coglione Se ti vengo a stuprare Eh Eh Stupido Ho preso la trappola Siete contro due Mi raccomando Buttatevi a round Tiratemi su magari Tiratemi su No eh Diana No eh Difensori Illuminati Missione d'attacco Riuscita E Diana Ma toto il full team Ragazzi Perché me l'ha Atterrata Squadra d'attacco eliminata 10 Ma come sempre tra l'altro Non è che ce n'è una Che vado sotto le 10 Solo quella di prima E bravo porno Che porno Io Anche io e Draco Ci chiamiamo porno Sack sto finendo Se vuoi Aspettami Va bene Back morto E' morto il primo Ragazzi comunque Dai Caricatore Mi è per il tavolo Mi ha messo tutto adesso Vai Dove dico Dove dove Sì La botola sicura Questo è sicuro Ultimo nemico rimasto 3-1 Prese sicuro Il disinnescatore È di nuovo nostro Cover me Cover me I plant Disinnescatore Avviato Proteggete il disinnescatore Adietro Ci fa guarda Volevo fare questo Guarda guarda E ce l'ho fatta Che bot E ce l'ho fatta